Questo è un dato che scorpora in qualche modo l'andamento della curva per fasce di età e vedete che sostanzialmente un po' la crescita sta avvenendo un po' in tutte le fasce di età, quindi in maniera con intensità diversa ma un po' in tutte le fasce di età. Dal punto di vista dell'età più giovani, anche in questo caso ci sono dei dati che ci mostrano come sostanzialmente i ragazzini in particolare da dieci anni in su hanno un'incidenza che cresce, crescono in tutte le fasce di età, anche questo è un elemento che abbiamo già condiviso nelle settimane scorse e che si conferma.